pronto marco devi venire qua c'è stali danni qua hanno fatto gli danni l'assicurazione mi deve pagare devi venire oh angelo che è successo allora che è successo è arrivata una famiglia di sti cazzi di cinghiali mi ha rovinato tutta la campagna però uno con l'officino uno si è acchiappato tutti li doveva ammazzare tutti ma che si deve ammazzare tutti ma veramente si è ammazzato lo cinghiale sta là va sta là no allora quello lo dobbiamo porta via perché sennò l'assicurazione non decopre angelo articolo 3 postilla 3 non decopre se immazzo lo cinghiale lì senti una cosa l'originio ce li vediamo però ma che ricinio ma stiamo in mezzo alla campagna l'originio ma che cazzo dice? angelo l'assicurazione non decopre se non c'era l'originio articolo 5 postilla 3 lo metteremo l'originio quelle delle pecorate dai le metteremo l'originio dai senti una cosa le telecamere ce le vediamo? le telecamere? e come facciamo a far vedere che avviate gli cinghiali? ma che è la televisione? ma che cazzo stai addio? ti dago 5 mila euro l'anno d'assicurazione tutti i mezzi di trattore lucozzo ma che sporchi i soldi mia? ma che strappati? allora senti una cosa manco con le telecamere qua non ce la facciamo eh allora mi ammazzi lo cinghiale l'assicurazione non te copre l'originio non ce l'hai l'assicurazione non te copre che facciamo? le telecamere non ci sta qua non te copre eh frà? lo sai che ti dico eh? non me copre? lo sai che faccio io? io te copro di ammazzato io te copro di ammazzato io te copro di ammazzato